Non dovete sospettare di lui se corre in questura e di lì schizza immediatamente in tribunale. È la classica battuta matutina del cronista in cerca di notizie. Venisse almeno un bel terremoto. Inocuo magari, ma spettacoloso. Eppure qualche segno promettente si vede. Polizia, autoambulanze e lui dietro. No, no, non fate gli scongiuri. Non è colpa sua se succedono gli incidenti. Se lui si precipita al primo telefono per trasformare il fatto in parole che la macchina da scrivere trasmette alla Linotai. L'altra fila la conoscete. Il cronista, in fondo, ci insegna a vivere raccontandoci com'è la vita. Ed è più contento di noi se, invece della cronaca nera, ci può offrire una notizia come questa che lo rende anche orgoglioso. Sei giornalisti celebri premiati a Palazzo Vecchio. Discorso di Fedi. C'è la nipote di Papini, uno dei sei, che la pila premierà con Caprinci, Cognani, Martinelli e Banni. Giacomelli si è portato il nipotino. Vuole entusiasmarlo a questo mestieraccio, come l'ha chiamato un collega.